Ciao, sono Alessandro Torezzi. Sono felice di presentare un sistema innovativo per controllo del car trunk automatico che abbiamo prototipato usando l'autodip kit. Siamo che i nostri clienti trovano difficili con le applicazioni di power liftgate, perché, a volte, il gestore deve essere performato molte volte prima che il trunk si apre. Questo può essere a causa del sensore utilizzato, la posizione sotto il car bumpere e il gestore necessario. Inoltre, il sensore utilizzato non ha un sistema alternativo per ottenere il trunk se non funziona, perché il cover è con il muro o la strada è flutata. La soluzione ST ha stato disegnato per all'interno di questi problemi, mentre aumenta il sistema di sicurezza. Basi sulle nuove zonal approche paradigme, ST power liftgate controlla 7 subsystemi in parallelo, Acoustic e visual alert, NFC e Bluetooth communication, motion and foot detection sensor, e la linea attuator control. A questo aggiungiamo un LCD screen e un tasto failsafe button control. La prima funzione dell'applicazione è il controllo preciso del linea attuator che si apre e si chiama la porta liftgate. Il controllo è sviluppato con un design di modello, e il codice di sviluppato sono generato con un coder embezzato di Matworx. Il modello include tutti i meccanismi controllo e di sicurezza basati sull'attività di dual feedback che viene dall'attività del sensore e dell'attività del sensore. Un'altra funzione è il sensore del tempo di luce che posiziona sotto il bumper, che riconosce un movimento specifico, a costo di sensore molto competitivo. Le acoustic e visual alert sono attivate all'attività dell'attività 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 e quando un'attività consente accorre. Per esempio, l'attività dell'attività dell'attività è stato attraverso un obiettivo. Un'attività alternativa è l'anfc tag in il telefono mobile. Quindi, anche con l'attività, è possibile usare l'attività per aprire il tronco, anche se è in giocato o in giocato. Anche meglio, è controllare il tronco via un app app dedicato Android mobile. In questo modo, posso aprire il tronco anche un po' di metà prima di iniziare a portare i baggi e i baggi. L'app utilizza un algoritmo di comunicazione sicuro per assicurare che solo il telefono dell'attività apre il tronco. In addition, l'attività dell'attività può temporale o permanente electare un altro telefono mobile per avere accesso di tronco. Abbiamo sviluppato un sistema di sicurezza basato sul sensore di MAMS per evitare l'attività se il carro inizia a riuscire ad esempio su una slob di ruota. Il sistema di dettagli motione sia sull'attività 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 e sull'attività è presentato per aprire e cercare il tronco mentre un LCD in fronte del panel mostra il sistema di status. Per più dettagli, visite sd.com autodivkit o download autodivkit sd.com autodivkit sw Grazie!